Cinque amministratori di una società in house di recupero e trattamento rifiuti dell'Alto Vicentino dovranno rispondere in giudizio per un danno irrariale allo Stato di 2 milioni e 200 mila euro, un ammanco accertato dai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza. I militari della compagnia di Schia hanno verificato i libri contabili dell'impresa Capitale Pubblico che aveva applicato un aumento autodeterminato dell'Atari, la tasso comunale di rifiuti, tra il 2011 e 2021. Un aumento che non aveva mai ricevuto l'approvazione degli organi competenti, una tariffa al cancello insufficiente per coprire i costi industriali e oneri fiscali, una scelta che aveva generato un duplice pregiudizio economico. Da un lato le imprese private avrebbero beneficiato di costi di smaltimento di rifiuti inferiori ai prezzi di mercato, mentre i maggiori costi di funzionamento degli impianti sarebbero stati riversati nell'aumento dell'Atari per imprese e famiglie residenti nei comuni interessati.